La medicina tibetana riguardo sulla cultura tibetana è una delle molto importanti e principali che sono stato sempre, quindi quella è molto anche collegata con la storia del Tibet, perché la storia del Tibet è molto importante per anche i tibetani, come sono loro origini, loro condizioni, come deve essere anche continuato quello.